buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo l'unboxing di questo gigantesco pacco e direi che possiamo procedere alla magia ed eccolo qua il box incompleto di questa bellissima bicicletta elettrica unisex marchiata momodesign il modello è venezia adesso la vediamo bene nei dettagli è veramente una figata pazzesca ed eccola qua raga la bicicletta elettrica unixx ha pedalata assistita ruote in alluminio da 26 un telaio completamente in acciaio con parafanghi in acciaio ruote da 26 con canale da 1 e 75 dotata di una sella molto morbida di bassano selle handmade in italy è dotata di una batteria da 36 volt 7,8 ampere ora per 280 watt ora il motore ovviamente montato sul mozzo posteriore è presente un cambio a sei rapporti monocorona anteriore che potete pilotare e gestire direttamente sulla manopola dotato di campanellino sella ovviamente regolabile in altezza freni anteriori e posteriori di tipo v brake a sgancio rapido se dovete fare manutenzione vi danno in due chiavi perché qua c'è un ottolino adesso vi farò vedere per estrarre la batteria e poterla ricaricare arriva direttamente su quello scatolone che vi ho fatto vedere all'inizio video con i pedali smontati e il manubrio ruotato dove soltanto stringere il delle brugole che ci sono qua è dotata di luce anteriore indipendente che si accende così ovviamente a led e ovviamente raga questa bici per fare questo unboxing mi è stata prestata perché sarà un regalo allora è stata acquistata su amazon e vi lascio come affilato amazon come sempre giù il link in descrizione se volete acquistarla è veramente carina abbiamo fatto un piccolo test qua in cortile da me adesso ve la farò vedere bene nei dettagli allora raga ha tre livelli di assistenza praticamente voi dovete semplicemente pedalare per chi non è in formato come me la prima bici elettrica che sto un attimino testando ha tre livelli di assistenza voi iniziate a pedalare dopodiché selezionate low, medium e height e lei in automatico vi assiste nella pedalata vi assicuro che se volete fare dei tragitti e delle gite in bicicletta un po' più lunghe questa vi permette di farlo ha un'autonomia di 45 km quindi hai voglia a fare giri in bici allora raga partiamo dalla batteria dunque situata qua posteriormente sotto questo comodissimo portapacchi con questa molla dunque vi danno in dotazione come vi ho detto prima due chiavi adesso non gli è sfascetto perché vi ripeto questa bici sarà un regalo allora c'è questo nottodino basta semplicemente ruotare la chiave a 180 gradi e sbloccare la batteria c'è comodamente riuscite a mettere la mano qua sotto sfilate via tutta la batteria batteria ovviamente a lidio le prestazioni della batteria sono 36 volt 7.8 ampere ora per 280 watt ora non pesa neanche granché qua c'è un tasto power on quando la bicicletta non lo usate ovviamente ricordatevi di spegnerlo e qua c'è lo spinottino che vi permette di metterla in ricarica come se fosse un normale cellulare mi raccomando chiudete perché questo tappo qua è ermetico nel caso state facendo una gita in bici e inizia a piovere di brutto dopodiché la infilate in questa slitta esattamente così la spingete a pacco fino in fondo e riruotate il nottodino a 180 e sfilate via le chiavi ora però è arrivato il momento di farvi vedere il bellissimo display quindi accendiamo la batteria tutto l'impianto di alimentazione e andiamo ad accendere il display e vi spiego tutte le velocità eccolo qui al display semplicissimo on off vi da praticamente il livello di carica della batteria e poi semplicemente i tre livelli di assistenza che potete settare low medium e high noi qua in cortile abbiamo provato sul low ed è veramente una figata perché alla seconda pedalata se non sbaglio la bici è sentata che appena arriva a 6 km orari in automatico parte la servo assistenza del motore elettrico sul mozzo posteriore e ti dà una spinta che veramente ti alleggerisce tantissimo il carico delle ginocchia sulla pedalata allora il cambio è un side one le manopole sono molto morbide al tatto leve del freno che ti permettono di parpinzare le due dita ovviamente freni regolabili tutte le regolazioni dell'altezza manubrio addirittura qua sotto sul canotto abbiamo trovato potete regolare l'inclinazione del manubrio telaio vi ripeto in acciaio tutto il cablaggio elettrico veramente ben curato ovviamente abbiamo lasciato ancora le plastiche di protezione ah tra l'altro arriva veramente ben protetta arriva con i pedali smontati tutta quanta imballata con pluriball vedete anche posteriormente ancora tutte le protezioni che lasciamo ha anche un paracambio nel caso dovesse scivolarvi la bicicletta pneumatici ovviamente da città ovviamente stop posteriore non sfila ancora la linguetta perché la bici la dobbiamo regalare e posteriormente è dotata anche se schiacciate qua vi da il livello di carica della batteria che corrisponde esattamente a quello che abbiamo visto 5 minuti fa sul display la sella è della bassano veramente morbida comodissima e poi ha questi comodissimi spinotti elettrici che sono veramente facili da scollegare fra di loro vedete l'impianto elettrico è veramente ben fatto ve lo faccio vedere da vicino questo serve poi per scollegare se dovete smontare e fare manutenzione a tutta la bicicletta il motore è posizionato qua è dotata di un comodissimo cavalletto veramente di quelli spessi telaio di una certa consistenza in acciaio ovviamente noi del costruttore non ci fidiamo bilancia presa adesso la mettiamo sopra e vediamo quanto pesa la cicciona allora come avete visto è arrivata a 21 kg allora dichiarano per 31 letto su amazon non 35 non lo so con la batteria montata e non ho iniziato a dirmi che ho la bilancia a pacco perché io peso 70 e guarda qua 70 quindi beh magari sul sito momodesign sicuramente ci sarà il peso corretto forse su amazon è sbagliato il peso comunque adesso prima faccio un giro in cortile e vediamo come si comporta ovviamente raga stavo dimenticando una cosa importantissima insieme alla bici elettrica che arriva a questa scatola dove dentro ci sono le istruzioni certificato di garanzia quindi siete protetti poi avete tutte le chiavi che vi servono per mettere le bici su strada quindi non dovete comprare nulla e poi dentro la scatola troverete con presa asciuco il caricatore come se fosse un normale cellulare caricate la batteria della vostra bicicletta quindi la bici è fornita di tutto quanto e ora raga la prova su strada allora raga la sensazione è spettacolare perché appena iniziato a dare due colpi di pedale c'è il motore parte sul cui te vi assiste praticamente immediatamente incredibile dai due colpi di pedale patto si sente il reggero ronzio del motore brushless posteriore appena smettete di pedalare l'assistenza stoppa allora raga la sto provando in low perché secondo me medium e height è peggio di uno scooter ciao 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 ciao